salve e benvenuti di nuovo al lion bull academy oggi vi porto una sorpresa si può dire molti di voi per esempio o avete paura di investire o non avete abbastanza soldi come sapete i toro il prima il primo deposito di soldi sono 200 dollari e non tutti ce l'abbiamo la verità dopo i prossimi depositi sono soltanto di 50 dollari perciò è molto più semplice avere 50 dollari in un mese 50 euro in un mese per investirli dentro i toro è più semplice la verità si ha detto allora come riusciremo a avere questi primi 200 dollari per entrare in i toro come possiamo fare io sto provando da poco un metodo che sembra interessante ed è un'applicazione di ascoltare musica che vi paga per ascoltare musica ve la sto spiegando qua perché perché molti di voi non avete soldi o avete paura di investire i vostri soldi o vi serve per esempio avete già 100 euro ma non riuscite avere gli altri 100 per poterli mettere per cominciare con i toro questo è un metodo per poter avere un po di extra capitale per poter investire va bene l'applicazione si chiama current music la potete scaricare sulla ipod store o su google store sotto la descrizione ci sarà il link che c'è anche link di affiliato se vi iscrivete mi dovrebbero dare 500 monete di queste che non so se poi me li danno o no perché qualcuno ci si è scritto che non mi sono arrivate va bene qua c'è scritto che potrebbe arrivare fino a 600 dollari all'anno vi potrebbe dare se riusciamo a avere quello sarebbe geniale perché sono 1200 dollari ogni due anni ogni due anni che sarebbero già quasi completo il nostro portafoglio che abbiamo preparato gli altri giorni geniale senza dover mettere i nostri soldi perfetto e ogni anno immagini cioè ogni anno fa 600 dollari infili dentro anche se ne fai 300 sono 300 dollari che metti ogni anno buonissimo io la sto provando si tratta un'applicazione che ha delle playlist delle radio stazioni di radio vi mettono le canzoni che vogliono loro però potete scegliere il tipo di canzone tipo pop rock jazz giapponesi asiatiche ci sono di tutto anche se c'è qualche otaku ci sono anche canzoni di anime se potete sentire le potete sentire tutto il giorno io lo sto già provando e per adesso mi sta dando buoni risultati come la potete vedere ogni 35 mila 35 mila punti potrete avere una carta di paypal sarebbe un codice che poi vi invieranno i 20 dollari su paypal è perfetto poi pigliate quei soldi e rimandate su e toro o quando arrivano i 200 dollari mettete in e toro ogni 50 se avete già aperto il conto io ve la consiglio soldi che vengono sempre buoni e poi state facendo una cosa che fate tutti i giorni se vi piace ascoltare la musica come a me che quando sto correndo ascolto musica o non so senza fare niente così che sto col computer scrivendo scrivimi libri o studio metto un po di musica sempre perciò vi stanno pagando facendo le cose che fate tutti i giorni quello si consuma internet perciò se avete un io per esempio ho un vodafone con internet illimitato che sicuramente molti di voi in italia ce l'avete anche è molto consigliato va bene c'è scritto che ci sono tante playlist vi pagano ogni volta che ascoltate una canzone le prime ore che le usate soprattutto la mattina vi paga attorno dai 4 ai 10 fino a 15 punti per canzone il resto delle ore vi pagano attorno dall'1 ai 4 sta sempre per esempio adesso l'ultima che ho ascoltato mi ha dato 1,90 allora scaricatela provatela appena riuscite ad arrivare il capitale per i toro perfetto già potete cominciare a investire ve l'ho data come un aiuto penso che è interessante e se veramente riusciamo a fare i 600 dollari annuali sarebbe perfetto anche 300 dollari annuali per una cosa che sto facendo tutti i giorni perciò va bene perciò vi consiglio di scaricarla se vi è piaciuto il video date su un like e condividete questo video soprattutto con tutti e susscrivetevi al canale dai grazie ciao